Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ITA, oggi siamo su Dream Engines Nomad City, gioco che vi avevo portato in quei video, infatti oltre un anno e mezzo fa, con i giochi più promettenti in uscita. Ecco, finalmente è uscito, il prezzo a listino senza sconti è di 29,99, scontato per il lancio a 26,99. Andremo ad analizzare se effettivamente vale questi soldi, io posso dire che potrebbe valerli, dipende un pochino anche da voi. Il gioco è in early access e ci resterà per circa 1-2 anni in base allo sviluppo e ha il feedback con gli utenti. È un gioco che ricorda molto due titoli, Dyson Sphere e Factorio. Ve lo faccio vedere, ci ho giochicchiato un po'. Vi mostrerò prima di tutto la roadmap, la roadmap sembra abbastanza ricca con biomi di lava, punti di interesse, una tribù aggiuntiva, adesso vi faccio vedere quelle disponibili adesso. La mappa del mondo, gli incontri, diciamo, con i nemici, le spedizioni, nemici vaganti, storia del mondo, l'allora, l'economia dei lavoratori, felicità e bisogni perché non ci sono ancora, nidi di nemici e enciclopedia in game, modding, qualità di vita, insomma, e varie cose. Lo iniziamo con una nuova partita, perché il gioco, secondo me, merita, è piuttosto profondo. All'inizio possiamo scegliere due tribù, la seconda è sbloccabile solo ottenendo 3000 flux, giocando con un'altra tribù. La terza, invece, è quella che vi dicevo, che verrà sbloccata prossimamente. Andiamo con questa, si può scegliere un preset di difficoltà, io sceglievo questo. Possiamo abilitare ovviamente un tutorial, ma sarò io il vostro tutorial quest'oggi. Andiamo a creare la Indie City e vi mostrerò immediatamente in che cosa consiste il titolo. C'è un sistema di movimento che ricorda molto quello di Factorio. Praticamente, come potete vedere, il gioco parte già subito dopo il tutorial, ma noi ce ne freghiamo e andiamo a fare le prime cose. Allora, vi faccio vedere che, premendo il tasto spazio, andiamo in modalità di costruzione. Vedete la vista dall'alto, poi potete col tasto Z andare a muovervi e mettervi, diciamo, con la possibilità di ruotare da visuale, ma restiamo comunque sempre in modalità di costruzione. Quindi non possiamo attaccare, ma possiamo solo costruire. La prima cosa che facciamo, perché qua in alto ci vengono indicati il numero di persone. Abbiamo 10 persone, 10 libere, cioè non c'è lavoro in questa città. E qua in alto vedete anche il livello della città, che è un campo a livello A21 cittadini, avremo il nuovo livello, insomma, il nuovo tipo di città. Andiamo a mettere tre case. Le case hanno bisogno di essere rifornite, quindi in questo caso noi andiamo a prendere il core, selezionando il cibo, e gli diciamo di andare a distribuire il cibo alle case. Quindi in questo caso mettiamo una lì, una lì e una lì, e quindi l'uscita. Non ci sono, diciamo, separatori strani da mettere, vengono divisi in automatico, qualora ci fosse una biforcazione del binario. Ci piazziamo un'altra casa ancora, la mettiamo qui, in modo che una volta che il cibo gli arriva, noi abbiamo più cittadini, i cittadini aumentano, 12 ne abbiamo, aumenta anche il massimale. E una volta che la casa viene rifornita, fine, finisce lì, insomma, e ci richiede, diciamo, cibo e elettricità. L'elettricità che vediamo qua, vedete, viene prodotta in quantità di 15 e consumata 4, quindi siamo più 11, quindi al momento possiamo andare avanti abbastanza tranquillamente. Torniamo in modalità di esplorazione e vediamo che qua abbiamo la possibilità, anzi la necessità, col tasto destro di sparare a distanza e col tasto sinistro di colpire mille, di abbattere i nemici che difendono le varie risorse. E tra l'altro se poi ce li portiamo troppo vicino alla città, questi attaccheranno i nostri edifici distruggendoli. Allora, la cosa che dobbiamo fare all'inizio è, appunto, liberare una di queste, entrare in modalità di costruzione, scusate che c'è ancora questo, cliccare sopra e andare a costruire un edificio, che è la segheria. La segheria andrà a portare fuori dei materiali che verranno portati in città. In questo caso andremo a costruire anche una raffineria, che si chiama Woodwerper. Possiamo decidere, e qua ve lo dico subito che magari non arrivate a fine video e non lo saprete mai, se non lo fate, potremo decollare. Infatti qua in alto vedete che c'è scritto Take Off. Infatti quando noi saremo stufi o la situazione si metterà troppo male, potremo far decollare ed è per questo che si chiamano Nomad City, questo gioco, e me l'avevo già anticipato comunque nel video fatto sulle anteprime dei giochi permettenti, perché questa è una città volante, quindi decolleremo e sceglieremo una nuova zona dove atterrare. In questo caso intanto siamo diventati outpost, perché abbiamo raggiunto un certo numero di cittadini che mi pare si diventi, si venti, assegnati tre. Ovviamente non c'è ancora lavoro perché avremo bisogno della raffineria. In questo caso io decido di tenermi la raffineria all'interno della città, quindi la costruisco qui. Ok, in questo caso andiamo a dividere adesso il rullo. Il rullo andrà e porterà il legname a tutti e tre. Un'altra cosa importante da dire è che noi estraiamo il cibo dal core, il core attualmente contiene del legname, della pietra e dei repair kit che ci servono poi da equipaggiare noi stessi. Infatti vi mostro subito che andando nella nostra pagina abbiamo le armi, il pugno, insomma la balestra e l'equipaggiamento a livello di armature. Cliccando su uno slot possiamo andare a equipaggiare qualcosa. Premendo il tasto C invece entriamo nel crafting personale dove possiamo andare a craftare degli oggetti. In questo caso ho preso questi, vado nel mio inventario e vado e lo equipaggio. E quindi lo vedrò entrando in questa modalità, premendo 1, andrò a piazzare un kit di riparazione. L'altra precisazione da fare è che io adesso sto producendo legname plank, quindi assi di legno, però devo depositarle all'interno del core. Quindi qua estraiamo da questa piantagione, insomma, da questa foresta, insomma, da questa fonte di risorse di legname, questo legno rosso grezzo che viene raffinato, tagliato in assi e poi mandato al core. L'altra cosa, dicevo, che all'interno ci sono cibo e il cibo viene mandato alle case, ma non viene prodotto il cibo. Quindi abbiamo bisogno di una piantagione, qui, la piazziamo qui. Questa piantagione produce patate. La piantagione di patate deve essere però poi raffinata in food plant, quindi qua produci le patate, qua produci magari il cibo, vado a collegarle, quindi esco e vado qua. Qui mi produci il cibo, quindi entra ed esce volgarmente come cellule di cibo, e poi viene, so che non è il massimo dell'efficienza a fare questa cosa, però, vabbè, avrei dovuto piazzarla più vicino, ma ovviamente questo è un videoscopo semplicemente didattico. Qua produciamo cibo e qua il cibo poi riesce di nuovo e va alle case. Perfetto. Possiamo aprire anche gli archivi dove possiamo andare a vedere tutti i vari edifici che abbiamo sbloccato, le ricette di crafting che abbiamo e gli aggiornamenti, perché le case, ad esempio, sono aggiornabili, usando delle risorse che però ancora non abbiamo. Fondamentalmente adesso ci sono le risorse del legno e della pietra, che ho visto. La città poi, tra l'altro, genera anche del flux. Il flux può essere però potenziato, in questo caso però c'è un piccolo problema, perché abbiamo l'energia, la produzione dell'energia che è scarsa, quindi in questo caso ci vado a piazzare un generatore di energia. Mentre potete vedere che fuori dalla città ci sono delle zone rosse, in cui non possiamo costruire, qualora decidessimo di piazzare qualcosa, vedete che è rossa la zona, perché dobbiamo piazzarci una torre di Tesla, vedete che dove la piazzo la zona rossa, diciamo, scompare, e quindi possiamo costruire anche in quella zona lì. Ma in questo caso, vabbè, siamo a più 6 di energia, perché anche questa produce energia elettrica. Invece possiamo decidere di aumentare il flux, vi ricordate che a 3.000 flux sblocchiamo la seconda tribù da usare, poi eventualmente in un'altra partita. Ci sono delle produzioni, non di tar, tar è un'altra risorsa ancora, che è il Flutvatz, che posso piazzare qui, in questo caso vado ad aumentare sensibilmente la produzione di flux, che è una risorsa che comunque mi viene richiesta nella costruzione di tanti edifici, ma anche spesso nella manutenzione. Però in questo caso vedete che le case producono flusso. È ancora da capire bene, perché è una cosa molto steampunk questa. Noi produciamo flusso anche con le case, con i cittadini. Niente, abbiamo il cibo che comunque è in calo, perché comunque stiamo producendo un po' poco. Quindi io direi di piazzare un'altra potetofarma, la piazzo qui, e poi vado a estrarre anche da qui e vado a piazzare tutto lì. Vedete che non ci sono deviatori, non c'è nulla di nulla, cioè fa tutto in automatico, basta dirgli da dove partire. Io spero inizio a produrre presto, sì, infatti. Adesso dovremmo andare magari in maggiore produzione. Io farei anche, forse, anche la terza, però non lo so. Facciamo anche la terza. Così che magari... Ok, adesso siamo in positivo. Con il cibo siamo in positivo. Ci sono livelli di difficoltà molto scalabili, quindi, però calcolate che al momento, ma in futuro ci saranno, non ci sono i bisogni, non c'è la gestione della vita dei lavoratori. I lavoratori li vedete qui. Qua abbiamo un riassunto, abbiamo 30 cittadini, 19 impegnati e 11 disoccupati, quindi potremmo dargli del lavoro da fare. Infatti potremmo andare a cercare altre risorse, tra cui ci sono le pietre. E con le pietre abbiamo anche una produzione poi di pietra da poter utilizzare per la produzione di altri edifici ancora. Ma la parte più importante, nonché probabilmente l'ultima che mi preme farvi vedere, è una cosa bellissima, che è l'edificio per la ricerca, perché la ricerca è veramente molto, molto ampia. Tra l'altro noi potremmo subire dei ride, quindi come potete vedere, qua nella costruzione abbiamo anche la possibilità di fare le mura, le mura e le torrette difensive, perché diventa attratti anche... La città è sotto attacco? Dove? Di là. Mannaggia, 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 mannaggia. Questo non mi è capitato molto spesso, dico la verità. No, non è sotto attacco la città. Ah, sì, 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 sì. Maledetto. Ok. Posso usare il kit di riparazione e riparo la città, no? Vabbè, si riparerà da sola, presumo. Perché, niente, me ne ho dimenticato uno. Arriveranno, dicevo, i ride. C'è anche la possibilità di costruire le strade, ma credo che quelle siano abbastanza inutili nel momento, perché non c'è, diciamo, ancora una certa vita sociale dei cittadini, non fanno nulla di estremamente interessante. Lì sotto abbiamo un'altra produzione di legno che non mi interessa. Voglio andare, spero che non arrivi nessuno, perché ho visto che c'è un'altra via qua sotto, possiamo provare a vedere lì che cosa se c'è della pietra. produzione di pietra. No. Vabbè. Direi che forse da questa, qualcosina. Può dover attaccare anche i milì, ma i milì ho solo il pugno, quindi non è un gran danno quello che facciamo. Ovviamente più lo troviamo lontano, più dobbiamo trasportarlo in città e quindi di conseguenza più andiamo a spendere, per la costruzione. Che poi alla fine i rulli ci costano solo flux, quindi non è nulla di che. La città è sotto attacco ancora, chissà dove, stavolta. Non riesco a capire. Ah, lì. Quel botolo lì. Allora, vorrei andare a prendere l'edificio e capire come funziona il kit di riparazione. Ah, non ce l'ho perché devo craftarmelo. Ok. Allora, intanto, l'ultima cosa che volevo farvi vedere è il Research Lab che piazziamo qui. In questo caso, tra l'altro abbiamo raggiunto anche il livello massimo di flux, quasi, che è 1000 e per sbloccare la nuova tribuna servono 3000, quindi dovremmo andare in qualche modo a potenziare anche il... ci serve pietra. Per potenziare ci serve un sacco di flux e la pietra. E la pietra non ce l'abbiamo. Ad ogni modo. Questo è molto, molto bello perché, vabbè, potete attivare e disattivare gli edifici e fa parte degli obiettivi. Quindi quello è importante. Vedete in alto c'è questa mappa che ci dice quanto manca, cioè quanto manca, da dove arriverà la ride. Io adesso imposto take off così vi faccio vedere. Ma la cosa più bella è la ricerca. Guardate quanta roba c'è da ricercare. Vado avanti abbastanza piano così lo vedete tutto. C'è di roba, ce n'è un fottio. Condensatore, ci dà nuovi edifici, nuove... nuove produzioni. Il gioco ha il suo core all'inizio e poi ovviamente l'ha portato avanti e verrà potenziato. Non è in italiano ma onestamente non ho sentito minimamente la mancanza perché il tutorial è comprensibilissimo. Il gioco comunque ci dà degli obiettivi che li vedete qua in alto quindi belli appassionati di Factorio, di Dyson Sphere, questo è il gioco che sicuramente fa per loro. Qua in alto potete vedere il peso e la potenza di trasporto. Credo che poi si consumi, si pesa di più di quello che può trasportare, si consumi più carburante. Il carburante è riportato qua sotto. L'engine fuel. non ne stiamo producendo al momento quindi ovviamente qua ci dice è fatto per spostarsi ed evitare morti terribili. Infatti in questo caso ci stanno per raidare e noi non siamo minimamente pronti perché non abbiamo alcun tipo di di difesa diciamo da Tower Defense quindi in questo caso ce ne andiamo. Ok, il mondo è sotto attacco però ce ne è fotte niente perché vedete che partiamo e lasciamo giù quegli edifici che erano rimasti fuori. quindi in questo caso ce ne stiamo andando lasciando la nostra produzione di legno e la produzione di flux. Quindi ce ne andiamo in questo caso abbiamo nuovi biomi dove andare. Se queste regioni con la minaccia globale qua in alto quindi vedete che la minaccia è 1 quindi principalmente saranno tutti minaccia 1 ma alcune zone 2 qualora non dovesse piacerci al costo di 2 di carburante rimischiamo le carte e andiamo da un'altra parte in questo caso io vado nel deserto e scopro che qui ci sono delle pietre c'è meno lename e ci sono più cristalli non tantissimi quindi decido di atterrare lì il gioco carica la nuova partita e ci ritroveremo nella nuova zona esattamente come abbiamo lasciato la nostra città quindi dovremo avere magari la possibilità di spostare degli edifici e questo è facilmente fattibile ad esempio non mi piace come ho messo questo voglio metterlo in un altro punto premio il tasto M e lo sposto in un altro punto posso spostarlo fuori dalla città qualora dovessi avere la città troppo carica la posso spostare dove voglio qua abbiamo la produzione di legno però qui purtroppo abbiamo una produzione di pietra quindi in questo caso vado a liberare i nemici sono pressoché identici anche qui nel deserto però questi sparano da lontano maledetti quindi in questo caso io vado qui premo sulla pietra e gli costruisco la taglia pietre la macchina diciamo per tagliare le pietre dopo avrò la necessità di andare a piazzare il taglia pietra il raffinatore di pietra da un'altra parte quindi in questo caso io vado a vedere qui c'è del legname no però vabbè ci proviamo diamo un'occhiata intorno e vediamo dove posso ruotare anche la visuale dove c'è della della legna non voglio spostarmi troppo perché non voglio attirare troppi nemici però qua in alto magari no pietra anche qua eh l'avranno detto che c'era più pietra che legno quindi potrebbe essere un problema pietra anche qua mannaggia loro c'è pietra ovunque della pietra eh questi non dobbiamo mai 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 dimenticare dovremmo magari spostarci un po' di più perché perché magari la pietra è più il legno è più lontano e non voglio neanche andare troppo in giro perché mi tiro addosso magari le orde di nemici e muoio dopo non mi piace tantissimo sta zona del deserto perché non c'è niente c'è pietra è vero potremmo fermarci qui quindi ci sono cristalli e ormai me li sono tirati addosso quindi li devo fare e magari dai facciamo finiamo il giro e vediamo cosa c'è qua questo è tosto è coriaceo li attacco anche col pugno di pietra questo cos'è no non si può fare nulla con i cristalli vabbè finiamo mamma mia è lì sono lì sono lì sono lì sono lì perché vedo i mostri rossi quindi i mostri rossi probabilmente arrivano direttamente dalla zona con il legno e avendo il legno io inizio ad attaccarli da lontano dai 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 ok dai qua ci sono materiali che questo è tosto no credevo volevo che fosse il legno ma non c'è niente lì di legno io sto finendo anche la vita adesso ok kit di riparazione non serviva per gli edifici questo l'ho scoperto adesso per riparare me stesso per guarirmi perché io sono un un robottino un po' così allora intanto abbiamo fatto il giro bello lungo ma non non trovo nulla e a me serve il legno serve il legno perché comunque vorrei fare un po' tutte le risorse non solo non solo la pietra anche se la pietra è importante per aggiornare quindi potremmo pensare di fare magari soltanto qui e la zona magari solo per ah ecco l'ho il legno è più vicino di quello che pensassi quindi in questo caso posso decidere di riadattare il vecchio curati il vecchio edificio i vecchi edifici di produzione boia mondo quanti 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 mi stanno attaccando gli edifici adesso giustamente perché trovano ok decido di riadattare questo vedete che non me lo fa perché ci sono nemici vicino quindi fin quando la zona non è completamente pulita non me lo fa fare adesso si ok posso andare a piazzare il rullo che poi va direttamente in città e arriva esattamente dove era quell'altro di prima collega ok e mi porta il legname a tutti la produzione tutta la produzione di legno dopodiché abbiamo anche questo quindi possiamo andare a metterlo qui e qua facciamo il raffinatore di pietra quindi era lo stone worker che piazziamo qui è uno solo purtroppo però magari poi ci evolviamo ovviamente potrei farne altri fuori ma ma sì dai perché no ok facciamo un altro no stone worker mettiamo anche qua non è abbastanza edifici per gli non è abbastanza lavoratori per gli edifici sono d'accordo non abbiamo bisogno vabbè dopodiché adesso qui possiamo fare che esce da qui esce da qui si congiungono in un unico rullo e vanno direttamente a qua al centro non abbiamo abbastanza lavoratori quindi abbiamo necessità di fare altre case quindi una due la città sta diventando troppo pesante questo è già un altro problema quindi dovremo per forza andare a sistemare un po' il problema intanto qua manca la connessione quindi vai ok stiamo producendo anche pietra adesso vedete abbiamo espanso anche la città la città sta andando verso il prossimo obiettivo che è da villaggio a città questo è Dream Engines Nomad Cities l'abbiamo visto a grandi linee ma insomma vi ho spiegato quelle che sono le basi ho fatto vedere la vastità della ricerca ora tocca a voi farmi sapere che cosa ne pensate e soprattutto cosa ne pensate del prezzo perché bisognerà vedere quanto impegnerà ma sicuramente per quello che ha adesso il gioco calcolando la difficoltà crescente degli scenari il prezzo lo può valere potrebbe aumentare ulteriormente da quello che ho letto però secondo me per un appassionato di Factorio per un appassionato di Dyson che magari ha trovato qualche componente che non gli piaceva in uno o nell'altro gioco questo Dream Engines può essere sicuramente un'ottima scelta fatemi sapere qua sotto nei commenti alla prossima e ciao ciao un'ottima 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 un'ottima